ben ritrovati siamo in compagnia di massimiliano pochetti cofondatore e CEO di reos che produce euro metro quadro massimiliano ben trovato e grazie per la tua disponibilità grazie a voi per l'opportunità senti massimiliano quali sono i vantaggi per un agente nell'utilizzare un sistema di valutazione digitale come euro metro quadro i vantaggi sono sono molteplici anche perché una piattaforma euro metro quadro nello specifico accompagna il professionista nella fase di analisi di mercato quindi ancor prima di eseguire una valutazione dopodiché da l'opportunità al professionista appunto di eseguire una valutazione secondo gli standard dvs internazionali standard riconosciuto e è una delle ultime cose che secondo me è quella che ci ha appassionato di più è la valutazione per il cliente acquirente cioè per quello che poi la sta comprando e quindi vuole capire se a tutti gli effetti se sta comprando l'immobile su cui poi può portare avanti il suo progetto di vita no certo senti però ci sono tanti sistemi di valutazione no che cosa vi differenzia rispetto agli altri competitor allora sì noi siamo partiti con l'idea di ottenere attraverso i dati un prodotto completamente differente quindi per noi non era importante la valutazione in sé appunto come fanno tanti altri competitor ma era ma era ed è ancora ad oggi dare l'opportunità al professionista di seguire tutte le fasi di evoluzione da quando si incontra un'esigenza che possa essere di vendere un immobile di comprare un immobile fino ad arrivare al appunto all'acquisizione dell'incarico al giusto prezzo di mercato per poi arrivare però anche ad avere un prodotto un contenuto che possa aiutare professionista a spiegare un cliente acquirente quello che dicevamo precedentemente cioè perché comprare questa casa no e quindi questo ci differenzia in questo momento tutto completamente sull'intero panorama anche un elemento forse il report di stima di caratterizzano sappiamo che c'è anche quello per chi acquista la casa in parte lo spiegavi anche tu prima perché farlo perché oggettivamente ci siamo messi nei panni dei clienti finali no quando io vado a vedere un immobile oggi forse ricevo una serie di informazioni che riguardano il prezzo le tasse che magari dovrò pagare le imposte sull'acquisto noi abbiamo pensato comunque potrebbe essere interessante fornire al cliente acquirente tutta una serie di informazioni che riguardano chi sono i miei vicini dove che tipo di movita c'è diciamo nel quartiere quali sono i porti gli aeroporti forze di sicurezza a che distanza le posso trovare se il mio immobile oggetto di elettrosmog qual è la velocità della fibra che raggiunge l'appartamento diciamo che potremmo continuare con tantissime informazioni e altri dati però l'idea che il cliente acquirente possa capire appunto questi aspetti secondo me secondo noi è fondamentale fa la differenza abbiamo detto i dati sono un po il petrolio di oggi no anche anche nel mondo immobiliare come vengono usati i dati nella valutazione di euro metro quadro allora dentro euro metro quadro ci sono due tipologie di dati ci sono dei dati oggettivi che impattano sul reale valore quindi il valore economico dell'immobile poi abbiamo tutta un'altra parte di dati che sono dati soggettivi diciamo che potrebbero influire sulla scelta cioè spostare appunto la scelta da parte del potenziale cliente mettendoli insieme abbiamo capito e abbiamo visto anche che c'è l'opportunità di poter capire sempre che tipo di cliente che tipo di interlocutore abbiamo davanti questo per il professionista è un vantaggio sicuramente importante quindi il saper con chi dialogare come presentare questo immobile sotto la miglior veste quindi non solo con dei dati oggettivi ma anche dei dati che lo potrebbero interessare e convincere di più nella sua scelta sì spostare come diciamo prima spostare l'asticella se per esempio in questo momento c'è una grandissima attenzione per la classe energetica per ovvi motivi quindi sappiamo che gli immobili in base alla classe energetica hanno un determinato consumo però quello che secondo noi è molto importante è riuscire poi a trasformare questi dati in numeri che possono essere percepiti poi direttamente dall'utente finale e quindi riteniamo di continuare fortemente a mettere l'accento su questo tipo di discorso in che modo volete mettere l'accento ulteriormente su questo aspetto? trasformandolo in economicità cioè noi sappiamo che un immobile di 80 metri quadri faccio un esempio un immobile di 80 metri quadri in classe G consuma mediamente 1000 euro l'anno per reclimatizzarlo a 20 gradi sappiamo che un immobile è lo stesso immobile con le stesse caratteristiche di metratura nella stessa zona magari in classe G sappiamo che ne consuma 500 è chiaro che c'è un risparmio notevole all'anno se lo spalmiamo per esempio in 30 anni e magari questa casa dovesse essere acquistata con un mutuo perché magari serve possiamo capire quante rate di mutuo ci paga il risparmio energetico ecco questo passaggio che io ho detto a parole chiaramente viene messo su carta quindi viene messo in maniera più spiegata in maniera molto più semplice e questo lo facciamo anche per tutto ciò che riguarda anche la redditività dell'immobile l'immobile ha e vale anche in base alla capacità che ha di produrre reddito indubbiamente sicuramente anche ne abbiamo parlato oggi nella plenaria di l'importanza anche di vedere l'immobiliare anche come investimento sicuramente questo può agevolare questa proiezione nel futuro di quanto possa essere redditività un immobile sì, nel 2021 il 44% delle compravendite sono state fatte su seconde case quindi non abitazioni di prima case questo è un aspetto che ci deve far riflettere perché vuol dire che quasi il 50% del mercato in Italia ha ad uso speculativo chiamiamolo così queste persone molto probabilmente che hanno acquistato queste case hanno l'esigenza poi di metterle a reddito se non optano per un affitto tradizionale che magari è più impegnativo diciamo burocraticamente parlando e pone un po' più di rischi oggi abbiamo l'opportunità diciamo più comune comunemente chiamata Airbnb no? con l'affitto giornaliero quindi oggi posso decidere di non affittare più l'immobile in maniera tradizionale ma se il mercato me lo offre posso prendere il mio immobile affittarlo mediamente a 50 euro al giorno magari per 200 giorni l'anno ecco il nostro sistema è in grado di fare anche questo cioè noi siamo in grado di dire a quel cliente che comprerà quell'immobile che tipo di redditività potrà ottenere in base alla tipologia di affitto che sceglierà e questo è un dato per noi molto importante specialmente in Italia poi la questione dell'affitto turistico per ovvie ragioni sappiamo che viene preferito all'affitto tradizionale purtroppo per problemi che ci portiamo avanti da un po' di tempo per la burocrazia che conosciamo per la pesantezza che questa caratterizza senti Massimiliano siamo andati un po' rapidi nella nostra veramente? quindi ti faccio una domanda un po' su quelle che sono le vostre aspettative sul 2023 come lo vedete? se ne parla tanto come un anno critico voi come lo vedete? allora si dice che è l'anno è l'anno dove ci aspettiamo tutti una crisi no? certo un anno di recessione allora intanto penso che chiuderemo l'anno con un segno più cioè in senso che faremo sicuramente molto meglio addirittura del 2021 in termini di compravendite l'anno prossimo sicuramente sarà tutto da vedere dobbiamo vedere un attimo se riusciamo a tenere a freno e a bada l'inflazione però al di là di aspetti di economia per quanto riguarda il nostro prodotto diciamo sostanzialmente siamo molto fiduciosi comunque di poter ottenere anche il prossimo anno sono tranquillamente gli obiettivi che ci siamo prefissati senza alcun dubbio il mercato immobiliare italiano anche quando è andato in crisi i numeri che ha fatto il mercato immobiliare italiano in crisi credo che non creino problemi particolari diciamo noi siamo sempre un popolo abbastanza appassionato di mattone in qualsiasi circostanza quindi non ottimo di particolari ecco sotto questo punto di vista sono ottimista c'è da dire anche che gli italiani l'hanno sempre interpretato come un bene rifugio quindi anche in un'ottica di aumento dell'inflazione c'è sempre stato un forte investimento nell'immobiliare quindi un bene di rifugio che sicuramente premia novità in cantiere che ci vuoi anticipare visto per fare uno scoop anche a sinergie allora sì abbiamo praticamente noi siamo un'azienda ovviamente una start up nuova siamo giovani siamo nati a marzo però abbiamo subito conquistato quattro dei brand internazionali diciamo importanti più importanti e questi brand chiaramente hanno a che fare anche con clienti stranieri quindi la prima il primo lavoro che stiamo facendo che vogliamo portare a termine è la traduzione in lingua inglese completamente di tutti i nostri contenuti per far sì che i clienti stranieri possano capire insomma anche loro qualche dato che esprimiamo e questa è la prima cosa l'altra cosa stiamo lavorando sul settore commerciale anche per poter offrire un contributo in questo senso anche su quel settore lì anche perché una delle parole chiave di questa edizione di Sinergy è sempre più specializzazione quindi poi vedremo anche anche nel commerciale si richiede una specializzazione sicuramente dei report così dettagliati che aiutino anche la gente a specializzarsi anche in quel ramo a interpretare a dare dei dati corretti anche in quel settore può essere sicuramente una leva o no? allora diciamo che sotto il profilo della valutazione sul settore commerciale parliamo di settore commerciale inteso come negozi ufficio per space magazzini forse una cosa del genere il sistema più credibile più affidabile è quello della capitalizzazione quindi diciamo che non è che c'è tantissimo da da fare diciamo sotto questo punto di vista il sistema è molto più semplice chiaramente c'è anche tutto un sistema di arricchimento dati che si può fare intorno a quel bene commerciale però se lo paragono a quello che abbiamo fatto per il residenziale tecnicamente parlando è più una passeggiata però merita la sua competenza chiaramente ci vuole conoscenza come sempre del mercato va bene allora grazie Massimiliano per questi tuoi spunti di riflessione di essere stato qui con noi e di averli condivisi ci vediamo presto grazie 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 grazie